Io non mi aspetto niente di troppo diverso, cioè io mi aspetto di... Cioè che questo nuovo corso non sia molto diverso dal vecchio, perché io poi non sono uno che si lamenta tanto del vecchio. L'annata è cominciata male, ma poi dopo è proseguita bene, tranne quel piccolo momento in casa con Giuliano e poi a Picerno. Io mi aspetto che stiamo con la squadra là un po' migliorata, senza quegli scivoloni. Togliamo le prime tre partite, noi staremmo quasi a pari con lo Stabia. Poi ovviamente mi aspetto di battere lo Stabia settimana prossima. La cosa fondamentale è quella. Paele, invece per quanto riguarda il capitolo social, come vedi questo commentare dei tifosi bianco-verdi? Alcune volte in modo costruttivo, altre invece distruttivo. Allora, purtroppo sui social ci vanno... ma questo non è solo nel calcio, non è solo per l'Avellino, per qualunque cosa, la politica, ma qualunque cosa. Ci vanno più gli scontenti che i contenti. Io sono convintissimo che la maggioranza dei tifosi dell'Avellino è una maggioranza molto sana, molto tifosa. Chiaramente se uno guarda i social, vede a volte delle persone che si lamentano, che si piangono addosso. Quando va bene si piangono addosso con vittimismo, eccetera. Io su questo cerco di intervenire dando sempre un punto di vista un po' più ottimista. Noi siamo lupi, dobbiamo essere orgogliosi, fieri di quello che siamo, anche quando ci sono momenti negativi, anche quando ci sono le sconfitte. Molti dicono, ah la Serie A, io sono uno che la Serie A l'ha vista tutta e vorrei dire ai giorni, guardate che in Serie A si perdeva. Cioè quando uno si salva all'ultima giornata o a due giornate alla fine, vuol dire che la maggioranza dei partiti le perde. Però non piangevamo. In corsa alla Juve Stabia, otto punti da recuperare, ci credi? Allora, otto punti sono molti. Questa cosa uno non si può nascondere. È inutile che diciamo, il campionato è già avanti per metà. Quindi dire che la Juve Stabia, vabbè tanto, mo' crolla, è finita, eccetera, è un atteggiamento ingenuo. La Juve Stabia è forte e sta otto punti avanti a noi. Però diciamo, tu ci credi? La risposta è ci credo, sono un tifoso, ci credo, ma ci credi fideisticamente? No, ci credo proprio. La cosa fondamentale sarebbe tentare di arrivare ancora a meno otto lo scontro con loro, perché chiaramente loro giocano in casa con Monterosi, quindi vorremmo vincere a Latina. Comunque anche se non dovessimo arrivare a meno otto, la cosa importante è vincere con loro, vincere e mi verrebbe a dire anche stravincere. Cioè magari dimostrare sul campo di essere più forti, magari fare più di un gol di scarto in modo di avere gli sconti retti in vantaggio. Diciamo che se fra dieci giorni siamo a meno cinque con gli sconti retti in vantaggio, con tutto un giorno di ritorno avanti, perché non dovremmo crederci?